Buongiorno a tutte e a tutti, andiamo adesso al racconto della novella presente nella seconda giornata ed è Andreuccio da Perugia che di professione fa il mercante di cavalli e un giorno Andreuccio decide di andare a Napoli in quanto secondo lui la città campana è il luogo giusto dove poter acquistare ottimi cavalli a prezzi convenienti. Una volta giunto a Napoli Andreuccio comincia a trattare con i mercanti per acquistare dei cavalli e nella trattativa mostra a più riprese di essere un ricco mercante in quanto fa vedere che ha tanti fiori in loro. In questo modo però attira l'attenzione di una giovane siciliana molto attraente la quale a un certo punto si accorge che il giovane Umbro viene riconosciuto da una persona anziana che è stata la nutrice di Andreuccio e dopo che la nutrice ha salutato il giovane Umbro viene raggiunta dalla bella siciliana col preciso scopo di carpire preziosi informazioni al fine di raggirare Andreuccio e impossessarsi dei fiori in loro. In breve tempo la giovane siciliana attraverso una sua cameriera riesce a far venire Andreuccio a casa sua sita nel quartiere malfamato del malpertuso non lontano dal porto e gli rivela che lei è sua sorella. Così lo invita a passare la notte con lei e Andreuccio quando va in bagno accade che scivola giù da una botola cadendo dentro una latrina per cui si ritrova pieno di esterco. Andreuccio urla disperato, a un certo punto arriva il compagno della ragazza, un gigantesco umone che lo invita ad andarsene al più presto se non sono uguale. Andreuccio a questo punto si dirige verso il mare e incontra due ladri che vanno in giro con una lanterna e si accorgono di lui per la grande pozza. I due li invitano a seguirlo ma prima lo calano in un pozzo per poterlo lavare. Andreuccio viene calato giù e proprio al momento in cui lo stanno facendo risalire arriva un gruppo di soldati. I due ladri scappano e quando i soldati vogliono bere dell'acqua fresca trovano invece nel secco pieno d'acqua, l'Andreuccio e spaventati fungono a gambe elevate. Poco dopo ritornano i due ladri che conducono Andreuccio nel duomo dove è stato seppellito dentro un sarcofago, l'arcivesco Filippo Mutolo. Lo scopo è di rubare i ricchi ornamenti ma soprattutto il prezioso anello con un rubino incastonato. I due ladri costringono Andreuccio ad entrare nel sarcofago il quale però si lega al dito l'anello mentre consegna il pastorale la croce d'oro e la vita. I due ladri gli chiedono soprattutto nell'anello ma Andreuccio risponde che non lo prova. I due allora chiudono il sarcofano con dentro Andreuccio disperato e scappano via. Però non passa molto tempo che arrivano altri ladri che vogliono entrare nel sarcofago per rubare i ricchi ornamenti e l'anello. Finalmente dopo molte discussioni uno di loro decide di entrare ma viene afferrato per le gambe da Andreuccio che così riesce a uscire spaventando i ladri che fuggono disperati. A questo punto Andreuccio si dirige in albergo facendo in modo però di nascondere l'anello e fa le valigie partendo pienamente soddisfatto per l'amata Perugia.